Buongiorno da Emanuele, benvenuti in questo nuovo video. Oggi non vi parlerò di un videogioco in senso stretto ma bensì di un libro perché tra l'altro si stiamo avvicinando anche al periodo di Natale e potrebbe anche essere considerato come un regalo interessante. Ho letto diversi libri dedicati a Final Fantasy che è una delle mie serie preferite e oggi vi parlo di uno dei libri più recenti e direi anche particolari perché parla della musica di questa importante saga di videogiochi. Buona visione! L'autore di questo volume che si intitola L'Aria del Cristallo è Mario Petillo che come indicato anche nella biografia è comunque una persona che ha ricoperto anche diversi ruoli nell'ambito della Game Industries, dal PR manager al giornalista e altro ancora. Prima di raccontarvi le mie impressioni su questo volume volevo fare un ringraziamento particolare all'autore perché finalmente leggo un libro in cui sono citate molto bene le fonti. So che magari per alcuni potrebbe essere una cosa scontata ma se avete seguito anche altri miei video mi avrete sicuramente sentito lamentare del fatto che molto spesso le fonti non vengono quasi mai citate non solo negli articoli pubblicati online ma sulle riviste ma spesso nemmeno nei libri. A proposito di fonti questo libro ha un focus specifico sulle più importanti musiche dei più cerebri Final Fantasy, vale a dire dal capitolo 6 al capitolo 10 ma poi in realtà ci parla dell'intera produzione musicale dell'autore di queste sinfonie ovvero il famoso Nobuo Uematsu e una cosa che secondo me è anche un valore aggiunto è il fatto che l'autore del volume racconta anche di conoscere di persona Nobuo Uematsu tanto che più o meno all'inizio del libro ci parla anche di un aneddoto molto divertente che gli è capitato proprio una sera a cena proprio a casa di Nobuo Uematsu. Una cosa importante da sottolineare è che per leggere questo volume non è necessario avere una conoscenza musicale ho notato che soprattutto verso la prima parte c'è ogni tanto qualche termine tecnico ma in realtà ad esempio anche se non sappiamo che cosa è una scala cromatica l'autore è stato bravo comunque a far capire il senso della frase, a lasciar passare il concetto che vuol far intendere. Fondamentalmente questo libro è diviso in tre parti. La prima parte ci racconta l'evoluzione della musica all'interno della storia dei videogiochi e si scoprono anche delle cose interessanti ad esempio tutti quanti conosciamo Tomohiro Nishikado per il suo famoso Space Invaders del 1978 ma comunque sia l'autore qui ci spiega che il contributo di questo famoso creatore di videogiochi è stato molto importante anche prima di quell'anno perché comunque sia il suo lavoro è stato fondamentale per l'evoluzione del sound design proprio alle origini della storia dei videogiochi. Si fa tra l'altro riferimento anche a dei nuovi generi musicali che sono proprio originati con i videogiochi penso ad esempio alla chiptune qui si parla ad esempio di Fabio Kenobit che con il suo Game Boy, con la musica prodotta con il suo Game Boy è uno degli autori nostrani più importanti di questo particolare panorama musicale. Ma poi c'è anche per quanto mi riguarda una nota nostalgica perché anch'io suono da quando sono ragazzino e qui si racconta un po' anche dell'evoluzione di certi apparecchi in particolare di certe schede audio che una volta si dovevano acquistare per poter attaccare gli strumenti musicali al computer. Anche io effettivamente ricordo i tempi in cui se volevi collegare ad esempio una tastiera al computer dovevi sborsare un sacco di soldi per comprare delle enormi schede audio esterne mentre invece oggi basta fondamentalmente un banalissimo cavetto usb. Un'altra parte di questo volume è dedicata alla produzione musicale di Nobuo Uematsu con riferimento ovviamente ai Final Fantasy ma anche altri videogiochi e poi con riferimenti anche ad altri progetti corollari diciamo perché infatti lui ha fondato anche delle band insieme a degli altri musicisti. La parte finale invece parla proprio e analizza alcuni brani composti per alcuni dei capitoli più importanti della serie Final Fantasy come già detto all'inizio del video quindi dal capitolo 6 al capitolo 10. Un piccolo consiglio una cosa interessante potrebbe essere leggere questo libro con di fianco lo smartphone con una portata di mano il telefono in modo tale da poter andare anche ad ascoltare anche semplicemente si trovano su youtube le sinfonie che vengono citate in questo volume e la cosa bella è che l'autore riesce molto bene a far capire quanto un lavoro artistico musicale se fatto molto bene aiuta tantissimo a rendere un'opera che sia un videogioco un film eccetera eccetera qualcosa di veramente indimenticabile e qualcosa di veramente iconico. Per non rovinare troppo la sorpresa senza entrare eccessivamente nel dettaglio vi dico che questo libro spiega molto bene come ogni sinfonia composta per Final Fantasy sia stata studiata proprio per cercare di far capire per accompagnare l'evoluzione psicologica di ogni singolo personaggio. Passiamo adesso ai pro e contro come pro ovviamente già avevo detto la questione delle fonti grazie ancora una volta per averci per averle citate molto bene ma poi direi anche il fatto che questo libro pur parlando di musica riesce comunque a farti capire molto bene quali vette emotive possono andare a toccare certi videogiochi e non so perché ma mentre leggevo il libro tra l'altro ero anche in vacanza mi venivano in mente i tempi in cui collaboravo con certe istituzioni per aprire le gaming zone nelle biblioteche e in particolare mi è venuta in mente una mattina credo fosse il 2016 in cui ero nella biblioteca valvassori peroni di milano proprio per allestire un'area con delle console e ovviamente in quei contesti c'erano anche delle persone che non erano molto entusiaste di questa cosa e quindi mentre ero lì che lavoravo venivano mi punzecchiavano un po mi facevano delle battutine tipo mi ricordo qualcuno che arrivava con una confezione di un videogioco me la metteva lì e mi diceva sì ma dov'è la carta dov'è il profumo della carta molto spesso in queste circostanze mi sono imbattuto in persone che non solo non volevano provare a videogiocare ma non volevano neanche come dire installare un dialogo ecco in quelle circostanze non so perché mi è venuto in mente che mi sarebbe piaciuto avere tra le mani questo volume e dire a queste persone vabbè se proprio non avete voglia di mettervi a chiacchierare con me almeno provate a leggervi questo specifico capitolo di questo libro poi eventualmente tornate e ne riparliamo per quanto riguarda i contro devo dire che non ho molto da dire se proprio devo dire qualcosa ma qualcosa di a livello soggettivo ho trovato la parte finale a volte un po troppo lunga l'analisi di certe composizioni dei certi testi anche un po lunga non so se magari qui entra in gioco quello che io chiamo il fuoco della passione quando stai parlando o scrivendo in questo caso di qualcosa che ti piace molto a volte può capitare che senza neanche renderti conto aggiungi magari più cose del necessario ogni tanto in alcune circostanze mi è sembrato come se l'autore ripetesse più volte gli stessi concetti ma posso supporre che questa cosa sia dovuta al fatto che credo che scrivere di musica non sia poi così tanto facile perché comunque la musica di solito è qualcosa che si ascolta e quindi a volte nella paura nel timore che certi concetti non riuscissero a essere subito comprensibili allora posso supporre che in questo caso si è preferito ribadirli ripeterli anche con dei giri di parole differenti però ribadisco che questi contro sono proprio tra virgolette in generale è un volume che ho apprezzato spero tra l'altro che si possono continuare ad affrontare l'argomento musica dei videogiochi perché comunque mi sembra un argomento che a livello saggistico quantomeno qui in Italia non è molto affrontato se devo pensare al target principale a cui può essere destinata questa pubblicazione mi viene sicuramente in mente l'appassionato di jrpg che possibilmente ha giocato magari anche ai final fantasy e che ha ovviamente anche un particolare ricordo di queste musiche non so se lo consiglierei a un appassionato generico di videogiochi che magari anche un po' alle prime armi così come non so se lo consiglierei a una persona che magari videogioca ma che non è particolarmente interessata ad approfondire l'argomento l'aspetto musicale ok vi lascio in descrizione il link per acquistare su amazon questa pubblicazione che costa se non ricordo male circa 16 euro e ci vediamo in un prossimo appuntamento ciao grazie a tutti grazie a tutti